A me piace cambiare ogni tanto le cose e oggi voglio farvi vedere come predispongo il set del Q&A Sunday. Ah, e ovviamente vi faccio vedere anche uno di questi trucchi scenici perché qui c'è la camicia, ma qui sotto per comodità c'è il pantalone della tuta. Mica mi metto il pantalone figo della camicia, dai. Allora, luce. Queste sono le grandissime luci che mi illuminano d'immenso e sono quelle che se volete fare video su YouTube vi consiglio di acquistare prima ancora di una fotocamera figa perché senza le luci potete avere anche la migliore fotocamera del mondo, ma la qualità farà sempre pena. Allora, vi faccio vedere come cambiano le cose. Mi metto in ginocchio perché non ho ancora sistemato la sedia. Allora, guardate quanto cambia senza luci. In realtà non vi sembrerà tanta la differenza perché ho comunque la luce solare che mi illumina, ma poi tra l'altro adesso accendendo e spegnendo la fotocamera va in difficoltà perché non capisce l'esposizione, ma comunque vi posso assicurare che poi quando andate a montare è un'altra cosa. Bene, ho finito di giocare. Partiamo con le domande in questo nuovo Q&A Sunday. Allora ragazzi, eccoci qua. Partiamo con le domande. La prima è di Prefetto Daniel RRRRT che chiede Ciao Andrea, secondo te il 3D Touch è una feature un po' trascurata da Apple? Segno di mancanza di idee o tesa di una maggiore diffusione per integrarlo ancora di più nel sistema operativo? Sarebbe carina l'introduzione di qualche gesture multi 3D Touch, soprattutto in giochi e applicazioni di grafica, troverebbe impiego? Sì, effettivamente è una bella idea quella del multi 3D Touch. Non ci avevo mai pensato, è una buona idea. Può darsi che abbiamo dato un'idea ad Apple in questo momento, ma per quanto riguarda il 3D Touch e la sua diffusione hai detto un'altra cosa giusta. Cioè secondo me stanno aspettando che la tecnologia si diffonda di più perché magari a quel punto quando vedranno che il 60-70% degli iPhone in circolazione saranno 6S e successivi potranno dire, beh a questo punto l'iOS X lo basiamo ancora di più sul 3D Touch. In realtà questo è già accaduto con iOS 10 che ha molte più gesture del 3D Touch. Cioè a tornare indietro ad iOS 9 il 3D Touch sembra che sia scomparso, invece con iOS 10 già c'è molto di più. Magari già con iOS 11 avremo più applicazioni del 3D Touch, ma non credo che sia una feature trascurata. Ripeto, quando è stata lanciata con il 6S e con iOS 9 ho detto, vabbè, ma si può fare a meno. Poi già con iOS 10 l'hanno giustificata molto di più, sono sicuro che con iOS 11 continueranno questo trend, insomma continueranno ad aggiungere nuove funzionalità e a rendere il 3D Touch sempre più utile. Victor Belli, ciao Andrea, secondo te prima o poi Apple porterà una fotocamera doppia che permetterà sfocati anche, sfondi sfocati anche sui modelli di iPhone non plus. Guarda, ci sono comunque già delle ottime applicazioni che ti consentono di far questo senza la doppia fotocamera. Il discorso delle doppie fotocamere è molto volatile, nel senso, tranne LG che secondo me ha scelto una strategia diversa e Apple per quanto riguarda lo zoom, il discorso della doppia fotocamera per lo sfocato in realtà è... cioè sì, di sicuro lo sfocato con la doppia fotocamera migliora, ma ci sono appunto ottime app che ti consentono di avere un risultato molto molto simile a quello di iPhone 7 Plus, ad esempio anche su iPhone 7 o su precedenti modelli. Quindi non so se Apple lo farà, loro ci giocano molto su questa cosa a livello di marketing, ovviamente. Secondo me però, come è stato un po' per lo stabilizzatore ottico, se vorranno farlo tecnicamente lo potranno fare in futuro, secondo me potrebbe accadere, però magari non subitissimo, non subitissimo. Simone Salvo, ciao Andrea, sono indeciso se comprare Apple Watch serie 1 o un serie 2. Secondo te, in fatto di prestazioni, quale è meglio? In fatto di prestazioni sono identici, perché hanno lo stesso chip, sono identici, vanno alla grande entrambi. L'unica differenza, come vi ho detto già altre volte, è che uno è impermeabile, l'altro no. È che uno ha il GPS e l'altro no. Quindi se per prestazioni intendi uscire, andare a correre, e vedere subito sullo smartphone il percorso, o meglio, subito senza smartphone, memorizzare senza smartphone dietro il percorso a GPS, questo lo puoi fare solo col serie 2. Quindi secondo me, se ti interessano solo le prestazioni, invece il fatto che l'orologio sia veloce ad aprire le applicazioni, a ricevere le notifiche, a rispondere, a usare Scribble, serie 1, serie 2 vanno allo stesso modo, quindi a quel punto ti direi vai sul serie 1, perché risparmi qualcosina. Se invece come prestazioni in generale, guardi all'orologio, a tutto tondo, a quello che ti consente di fare, ovviamente il serie 2 è più completo. The Strape, sono l'unico che pensa che a giugno o su di lì, o giù di lì, o su di lì, verrà lanciato il MacBook 12 pollici con Touch Bar 2017, mi sembra abbastanza plausibile. Oltre all'aggiornamento con Caby Lake, magari due versioni modi MacBook Pro con Essenza, con un 300€ di rincaro. Sinceramente non credo, perché se andrebbero a sovrapporre troppi prodotti, se aumenti, se anche rincari il prezzo di 300€, ti avvicini già il MacBook 12, molto vicino come cifre a quelle del MacBook Pro, magari non dell'ultimissimo, non di quello con Touch Bar, ma è comunque su cifre alte il MacBook 12. Quindi la Touch Bar, secondo me, per ora resterà esclusiva del MacBook Pro. Non me la vedo nell'immediato neanche sulle tastiere fisiche, sulle tastiere fisse degli iMac, dei Mac Pro, non credo ancora. Ma di sicuro non sul MacBook 12. Su quello non ci sarà per ora la Touch Bar, quello è un dispositivo portatile. La Touch Bar loro l'hanno indicata come un qualcosa che semplifichi la vita, che poi secondo me non è così, ma che vada, insomma, a offrire nuove opzioni di interazione col computer al professionista, a chi col computer ci lavora. Il MacBook 12, secondo loro, non è propriamente il computer da lavoro, è un computer per tutti, non è un computer per pochi, ossia per chi fa lavori intensi di grafica, di video editing, di audio editing sul proprio portatile. Quindi secondo me ci sarà un restyling, ovviamente. Non so se con Caby Lake prima dei MacBook Pro, però probabile a questo punto, ma secondo me no Touch Bar e prezzi che non credo verranno sinceramente rincarati, anche perché già costa tanto il MacBook, quindi già mantenerlo a quelle cifre, secondo me, sarebbe troppo. Potrebbero pensare addirittura di abbassarlo un po' come distino. Non avverrà neanche secondo, cioè neanche questo, secondo me, ma la cosa più probabile è che il MacBook venga aggiornato e mantenga quei prezzi. Però no Touch Bar, secondo me. Il magnifico, Andrea, in termini di batteria, consuma di più l'iPhone con le EarPods o l'iPhone con le AirPods? No, consuma di più l'iPhone con le EarPods, perché in sostanza hai un dispositivo Bluetooth connesso che trasmette audio, che riceve audio anche se parli al telefono, quindi è un consumo decisamente più alto. Le EarPods sono praticamente passive, non c'è nessuna tecnologia smart all'interno, sono cuffie che si collegano al Lightning tramite cui passa anche l'audio, insomma, come una volta erano le cuffie col jack. Quindi le EarPods sono molto più simili con le Lightning a quelle jack che non le EarPods alle EarPods. EarPods consumano sicuramente più batteria dell'iPhone, anche se, devo dire, non ho mai notato consumi abnormi che mi abbiano fatto dire oggi è meglio che non me le porto le cuffiette perché mi serve più batteria. No, assolutamente no. E siamo arrivati all'ultima domanda che è veramente carina di Mandy TV98 Q&A, secondo te Apple Watch per gli studenti e i loro problemi scolastici? È fondamentale. Guarda, se fossi andato ancora a scuola probabilmente avrei voluto un Apple Watch per, sì, per mettermi qualche foto delle formule di risoluzione dei problemi durante i compiti in classe, la traduzione della versione di latino, un riassunto per un'interrogazione. Sì, secondo me sarebbe stato comodo perché facendo azioni abbastanza normali come, che ne so, grattarmi qui, dicevo, mmm, e intanto davo un'occhiata vedevo quello che mi ero appuntato sull'Apple Watch. Secondo me, allora, non è indispensabile ovviamente però potrebbe essere molto comoda come cosa. Anche un trentottino sport anche serie zero a risparmio per un ragazzo che va a scuola può essere utile. Sì, 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 può essere molto utile specialmente durante i compiti in classe e le interrogazioni. Bene ragazzi, quindi questo qui è nei Sunday. Finisce qui. Mi raccomando, fate tante domande per la prossima settimana, per il prossimo Chi è nei Sunday che andrà sempre online alle 19 domenica prossima. Io vi auguro una buona fine di domenica e un buon inizio per la prossima settimana e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone